E gli paga! Noi paghiamo! Voi pagate! E si riscuotono! L'Italia è il paese del sole, dei monumenti e dei palazzi. In ogni città c'è qualche palazzo famoso. Sono palazzi che da ogni parte del mondo i turisti vengono a vedere. Ma c'è anche in ogni città un palazzo che nessuno può vedere. Il palazzo delle tasse. Nessuno lo vorrebbe vedere e tantomeno vorrebbe entrarci. Eppure le tasse sono necessarie. Grazie alle tasse pagate dai contribuenti i servizi pubblici funzionano alla perfezione. Le nostre automobili scivolano silenziosamente su strade ben asfaltate. I rappresentanti dell'ordine sono sempre a vostra disposizione, vigili e solerti. E soprattutto la disoccupazione si è in gran parte risolta. E sì perché, grazie alle tasse, si è creata una nuova professione. Quella del consulente fiscale, a cui tutti ricorrete per pagare il meno possibile. Questo è appunto uno specialista della nuova professione, che sta cercando di risolvere i problemi di un contribuente. E se lei non segue i miei consigli, alla fine pagherà il doppio, mi creda. Scusi. Pronto? Grazie. Grazie. Grazie.